Buongiorno a tutti, sono Gian Antonio Pagani, gestore di HI Smart Portfolio. Nel mese di marzo abbiamo assistito ad un'eccezionale fase di risk off sui mercati finanziari, con un allargamento degli spread sul credito e una correzione dell'azionario paragonabili per entità e velocità alla crisi finanziaria del 2008. La rapida diffusione del Covid-19 a livello globale e le necessarie drastiche misure di contenimento attuate per frenare il contagio rischiano infatti di provocare una delle peggiori crisi economiche degli ultimi 100 anni, con una contrazione attesa del GDP globale addirittura superiore a quella del già citato 2008. È da notare che anche le risposte delle principali banche centrali e di molti governi sono state tempestive e di eccezionale portata, e questo ha permesso perlomeno di evitare una crisi di equità e uno shock ancora più ampio ad un sistema già fortemente sotto pressione. In questo contesto i principali mercati azionari hanno sostanzialmente tutti registrato perdite a doppia cifra con un ribasso in marzo mediamente nell'ordine del 15%. Akei Smart Portfolio è riuscito a contenere le perdite al 2,84%, beneficiando dal buon contributo delle coperture e da un posizionamento conservativo sull'azionario. Per quanto riguarda il portafoglio di edging overlay, il risultato positivo deriva dalle opzioni put sull'S&P, su cui è stato interamente preso profitto intorno a metà mese, dalle posizioni rialziste su oro e treasury a breve scadenza. Nella componente beta, invece, per fronteggiare uno scenario di eccezionale volatilità e incertezza sui mercati, abbiamo deciso inizio marzo di ridurre l'esposizione azionare in via straordinaria poco sopra il 20%, ai minimi quindi dalla partenza del fondo. Inoltre abbiamo ulteriormente sbilanciato, nella prima settimana di marzo, il portafoglio verso fattori di natura più difensiva come quality e minimum volatility, i quali hanno confermato nel mese la sovraperformance in scenari economici negativi rispetto a fattori maggiormente esposti al ciclo come size e value. In marzo la componente alfa del portafoglio, pur registrando un risultato negativo, ha reso a retto complessivamente bene con performance molto differenziate tra i fondi sottostanti. I due fondi specializzati sui paesi emergenti, per esempio, hanno ottenuto risultati positivi nel mese grazie a una rapida riduzione dei rischi e a un corretto posizionamento sulle curve dei tassi locali. Dall'altro lato, invece, ha faticato molto il nostro trader macro e la componente event-driven del portafoglio. La fase di liquidazione sui mercati, intorno a metà mese, ha provocato infatti un temporaneo e eccezionale allargamento degli spread nelle operazioni di fusione e acquisizione, anche su operazioni con scadenza molto ravvicinata, estremamente basso rischio di rottura dei deal. Siamo estremamente fiduciosi sulla capacità di recupero dei fondi event-driven in portafoglio e, in generale, siamo molto ottimisti sulla possibilità per le strategie alternative di aggiungere valore nell'attuale scenario senza prendersi rischi eccessivi, sfruttando le enormi dislocazioni e opportunità che si sono create in marzo sui mercati. Dall'altro lato, per quanto riguarda la componente azionaria, in assenza di sviluppi significativi sul fronte della ricerca medica sul Covid-19, non intendiamo modificare, in modo sostanziale nelle prossime settimane, l'attuale impostazione prudente, in termini di esposizione netta, attesa a rimanere nel breve tra il 20-25% e di allocazione fattoriale. Nonostante infatti i rapidi e importanti interventi di governi e banche centrali sembrino effettivamente in grado di scongiurare uno shock del sistema, rimane enorme incertezza sulla capacità e velocità di recupero dell'economia globale dopo l'attuale fase di quasi completo stallo, a fronte tra l'altro di una serie di incognite tra cui il probabile permanere per alcuni mesi di qualche forma di limitazione alla libera circolazione delle persone, in secondo luogo alla possibilità che vi siano cambiamenti prolungati nelle abitudini del consumatore, infine al fatto che è difficile anticipare quali potranno essere gli effetti secondari di medio termine di una crisi senza precedenti, che ha visto per esempio uno storico incremento del tasso di disoccupazione in paesi come gli Stati Uniti.